e carissimi amici carissime amiche salve a tutti buongiorno benvenuti sul canale parliamo anche anche del delitto di Pierina Paganelli che vedete ancora per oggi non ha delle evoluzioni pratiche concrete ma è come un vulcano come il magma che sta dentro un vulcano che è molto attivo all'interno è pronto per esplodere guardate che mai come in questo caso credo di non sbagliare perché alcune cose vengono a galla alcuni input e noi insomma ne già chiediamo insieme come si sta parlando molto di quelle immagini che hanno catturato delle telecamere a circa 200 250 metri poco più di 200 metri dall'impatto dell'incidente di Giuliano e che ritraggono questo furgoncino bianco ora in relazione all'orario e alla direzione sembra proprio che questo furgone bianco possa al 90 per cento essere il furgone responsabile dell'impatto innanzitutto perché andava in senso opposto al ciclista quindi a Giuliano che l'impatto del dello specchietto che è un grosso specchietto è proprio all'altezza più o meno del metro e sessanta metri e settanta di colui che sta sulla bici e soprattutto è giustificativo di quella quel grave danno che è stato fatto diciamo alla testa nella parte soprattutto frontale per cui probabilmente si tratta davvero di un incidente stradale magari per incoscienza per distrazione non si sa magari le colpe di chi ha sbagliato di magari ecco a volte noi vediamo pure persone che si distruggono magari anche in strade non troppo larghe a doppio senso di circolazione capita che magari che ne so pure guardando il cellulare essendo distratte da queste cose qui basta una deviazione anche di poco nella guida che si va ad impattare in maniera clamorosa questa volta contro Giuliano quindi perché è importante questa notizia che poi si sta vedendo se si può di salire anche alla tasca e quindi avremo forse anche per questo qualcosa di molto importante ma perché è importante importante perché dimostra che tutto quello che si va oblaterando quello che si dice c'è la correlazione che ha fatto del male a Giuliano perché poi si è voluto vendicare anche sulla mamma e questa teoria è stata detta anche ieri ancora ieri dalla consulente che dice eh l'incidente a Giuliano secondo lui è collegato con con il delitto a questo punto secondo le ultime notizie non sembra che ci sia questa correlazione vedete è molto difficile perché se così fosse è incidente è incidente punto e basta perché io credo cioè capisco pure che il consulente dica qualora vi fosse una correlazione certa allora chi ha voluto fare del male a Giuliano adesso così per una sorta di vendetta trasversale può aver fatto del male a Pierino anche se non si non si capirebbe nemmeno in questo caso qua il perché in quanto innanzitutto sarebbe passato maggio giugno luglio agosto settembre fino a ottobre ma poi fare questa sorta di vendetta trasversale quando alla vigilia della dell'uscita dall'ospedale allora voglio dire se qualcuno voleva fare del male a Giuliano avrebbe aspettato un'altra settimana e avrebbe potuto fare del male di nuovo a Giuliano stesso non è che aspettava sei mesi per poi uccidere la mamma quindi sono discorsi secondo me veramente fuori dalla razionalità ecco poi abbiamo la notizia che Emanuela non è più testimone di Geova non è una notizia di poco conto sappiamo quando quanto è coinvolgente questa cosa quando lei è costata e non è non è una cosa da poco è una decisione sofferta è qualcosa che le cambia la vita abbiamo assistito ieri a una sua intervista in cui diciamo ho trovato effettivamente molto provata però è inutile che si minimizza è inutile che si dice io mi sono quasi mi sono allontanata io spontaneamente e perché perché c'è questa atmosfera così colì però gli odi litigi l'amante non sono cose da poco per chi sta in questa religione adesso lei dice io ho paura ho paura ho paura di stare in quel condominio è sincera non è sincera non si sa però il modo di esprimersi permettetemi e questo lo voglio sottolineare è davvero surreale ecco è surreale è surreale quando dice a un certo punto nell'intervista sono certa sono sicura che sono innocente ripeto sono certa sono sicura che sono innocente è quasi come uno sdoppiamento è come se uno si sdoppiasse nella propria personalità e dice ma io la manuela lì ho fiducia sono sono sicura sono certi che innocente è un modo strano di esprimersi perché se si parla di se stessi si dice io sono innocente punto cioè non so niente punto non è che sono sicuro sono certo sono sicuro di essere innocente non vi può essere un'opinione ecco non si può avere un'opinione verso se stessi di dire io ho l'opinione sicura di essere innocente no perché se si parla di se stessi si dice io sono innocente non so nulla se si parla anche di un fratello o si parla di un'altra persona si dice io io sono sicuro che lui è innocente allora lì va bene ma non esprimersi in questo modo e io questo modo l'ho trovato davvero davvero strano perché poi quando si dice io sono innocente sono sicuro di essere innocente che cosa significa poi essere innocenti ecco l'innocente è colui che non ha commesso l'evento delittuoso colui che non ha ammazzato o si è innocenti a tutto tondo cioè di non essere minimamente compromessa nel fatto perché se fosse ove mai tipo lui o qualcun altro insomma di lì e siamo sicuri che questa innocenza c'è al cento per cento anche come compromissione laterale diciamo o indotta quindi c'è un po da da pensare bene anche se ovviamente si vede che la donna è in ansia la donna non è certamente tranquilla ma ma non potrebbe esserlo così come stanno le cose e dice potrei tornare a una vita normale ho paura di vivere in quella palazzina soprattutto è difficile scendere giù nel garage e allora non lo so se noi ci troviamo di fronte a una manuela vittima di questa situazione o carnefice quindi anche l'inviata cioè i giornalisti presenti hanno tutti la netta sensazione e ci sono indiscrezioni a proposito che gli investigatori stanno mettendo appunto i tasselli certo anno aspettando analizzando l'esito di tutti gli esami si dice forse questione di ore per l'emissione di provvedimenti vedete io mi mi direi come dire la mia credibilità ecco mi direi la mia credibilità che veramente è impossibile che queste persone così attenzionate non possono essere destinatari come minimo di avvisi di garanzia o di più e allora veramente quando in tv ieri ho assistito un po a a un battibecco tra barzan davide barzan e la criminologa amica anna vagli veramente è qualcosa non so di strano perché con tutto il rispetto per carità ognuno svolge il suo ruolo ma davide barzan mi è sembrato il difensore degli indifendibili perché come è possibile affermare come lui ha fatto che la procura non cerca più nell'ambito familiare che la procura è orientata verso l'esterno che lui sta tranquillo da questo punto di vista qua ma a navagli gli ha ricordato invece che contrariamente a quello che lui pensa la procura ha elementi ha elementi a sufficienza e a breve ne vedrai il risultato perché lei come la maggior parte di noi è convinta che l'assassina possa l'assassino possa essere all'interno di quel condominio e barzan ancora ribadisce no assolutamente lei è troppo colpevolista le indagini familiari dice sono scemate tanto è vero e che dice una cosa che per me fu di luogo con rispetto parlando dice tanto è vero che il pm autorizzarono il rientro in casa di giuliano e con degli assassini lì in casa non avrebbe non avrebbe autorizzato allora come ha detto anche lavagli e io ribadisco ma certamente cosa poteva fare il pm innanzitutto non credo proprio che qualora loro o qualcuno di loro siano colpevoli possano voglio dire io non voglia uccidere giuliano sarebbe come dire la prova del 9 voglio dire sarebbe quasi impossibile ma poi a poi in assenza effettivamente di provvedimenti non ancora adottati come avrebbero potuto mai fare il pm a dire a giuliano di non rientrare a casa sua al limite doveva essere lo stesso giuliano a dire non mi sento sicuro di rientrare ma voi pensate che un uomo che in parte ha perso anche la memoria così ma un uomo che ha vissuto quello che ha vissuto che ha lottato fra la vita e la morte per mesi possa temere di dover rientrare a casa sua lui è rientrato a casa sua probabilmente ricorda di più di quello che dice però lui è silenzioso aspetta aspetta perché dice che hai che ha fiducia nella procura e aspetta di sapere se quella donna che sta in casa con lui è colpevole di qualcosa aspetta di sapere se il cognato è colpevole di qualcosa aspetta di sapere se i vicini di casa sono colpevoli di qualcosa lui aspetta lui ha fiducia non può temere per la sua vita dopo quello che ha passato e certamente quell'immagine con i fiori e i cioccolatini e mano nella mano che abbiamo visto il primo giorno in cui Giuliano è tornato a casa stride con l'atmosfera di oggi in cui non si vedono più i due coniugi insieme come pure non si vede più non si vede più Valeria con Luis è inutile che si dica no ma quali sono queste voci che Luis si era allontanato magari non si sarà allontanato certamente non si vede non si vedono non si fermano non parlano se non fosse successo niente se i rapporti fossero così normali si vedrebbero marito e moglie uscite a entrare normalmente per dire ma cosa volete noi stiamo insieme qualcosa si è rotto e si è rotto nelle coppie e si è rotto fra le coppie perché lì non credo che Giuliano e Emanuela vivano bei momenti non credo nemmeno che li vivano Valeria con Luis e nemmeno certamente Valeria con Emanuela e chissà e per il momento almeno Luis nemmeno con Emanuela ci mancherebbe che insomma anche questo quindi sono tensioni che ci sono e che possono esplodere e che non esplodono con accuse incrociate perché queste accuse incrociate non ci possono essere non ci possono essere perché è impossibile che se uno di loro ha delle colpe non siano più o meno più o meno colpe anche di altri vedete e allora Barzana ancora minimizza perché io non lo so a che titolo lui possa avere il coraggio ancora di difendere quattro posizioni antitetiche fra di loro dice sì ci sono stati degli alimenti così nella coppia eh eh però non bisogna pensare che essi siano colpevoli voi pensate dice al processo di erba con l'indo romano e lo sabazzi anche loro dopo tanto tempo non tiriamo in mezzo cose che non c'è non tiriamo in mezzo cose che non c'è ogni caso è fine a se stesso quindi dice bene a ma cosa stai parlando se qui ci sono 29 coltellate di cui solo quattro mortali il resto sono coltellate di rabbia coltellate di odio e non dimentichiamo nemmeno quella vergognosa simulazione di violenza sessuale con gonna sottoveste strappata l'intimo tolto è qualcosa davvero di vergognoso e allora come negare che queste coppie non siano dilaniate tese fino al paradosso una Valeria che intercettata dei giornalisti dice non rispondo sulla vita privata e allora non pensiamo più non diciamo più la pista esterna non prendiamo in giro la gente ormai si è capito che siamo alla vigilia di provvedimenti e di provvedimenti importanti è inutile dire viene l'uomo da fuori mister x che è un pazzo che è arrivato lì e fa perché un pazzo che arriva lì innanzitutto non arriva lì non aspetta non sa gli orari eccetera ma soprattutto non fa queste simulazioni poi si dice si diceva e ha detto ancora barzano no è collegato al all'incidente cosiddetto all'attentato contro giuliano perché si vede che aveva qualche nemico lui in particolare e sta emergendo che probabilmente probabilmente si è trattato di incidente stradale e questo lo magari lo si vedrà ma probabilmente c'è questo elemento nuovo che induce a pensare che effettivamente si tratti di incidente stradale perché qualcuno che ce l'avesse a morte con giuliano non c'era ma anche se ci fosse stato certamente non avrebbe aspettato sei mesi per prendersela poi con la di lui mamma alla vigilia dell'uscita sua dall'ospedale è un controsenso che non esiste quindi perciò diciamo che noi siamo in attesa e ci sono questi elementi nuovi queste tensioni incredibili queste novità il furgone manuele che esce dal testimone di giova manuele che ha paura manuele che dice sono certa sono sicura di essere innocente non si può esprimere in questo modo non ci si può esprimere in questo modo di se stessi non si può esprimere l'opinione di essere sicuri di essere innocenti o si è innocente o non si è innocente e forse questa espressione è la novità più importante che voglio cogliere in questo video perché a volte le parole vanno al di là delle nostre intenzioni grazie amici miei condividete il video con tutti i vostri amici e siamo sempre aggiornati specie su questo caso che secondo me avrà novità a brevissimo e non dite che lo diciamo da tanto tempo ci sono state le festività ecco però è concludo ma non parliamo noi noi ci lamentiamo che nel caso della resinovi ci sono oltre due anni e non e non è scaturita ancora niente ora qua non si sa per quale motivo visto che sono passati diciamo tre mesi e pochi giorni si sta parlando come se fossero trascosti tre anni che non c'è niente ma il tempo tre quattro mesi ma è un tempo necessario per un un delitto del genere non è che si prendono provvedimenti così a cuore leggero quindi grazie e un abbraccio e un saluto a tutti quanti voi ciao